Dalla prima passiamo alla seconda guerra mondiale, un brano che testimonia come di fronte al dovere del titolo schermagnico. All'inizio parte terra accompagna igreja, ci tocca ripartire e soprattutto alla fine quando è destinato alla Russia e partiremo ancora con l'angosetta in cor, lasciando la Russia con gli altri e la parola. D'Audi, iniziamo a qui. Il 16 settembre nessuno l'aspettava La cartolina rosa è l'ora di partire È l'ora di partire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. È l'ora di partire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. Da lui siamo partiti, da lui siamo passati. D'Audi, iniziamo a qui. Ci tocca ripartire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. Ci tocca ripartire, partire con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. La grecia è terminata, audi siamo tornati. E posto per la Russia, noi siamo destinati. E partiremo ancora, ancora con la tristezza in cor, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. Di CEO, www.spot.infoïc.it Motorizzati a piedi, a piedi, la fiuma sul cappello. Los aiman a far dell'ado, alvinno, calvino è sempre quel. Motorizzati a piedi, a piedi, la fiuma sul cappello. L'albino, l'albino è sempre quel.